Ciao a tutti ragazzi, sono Silvia Lari, docente di canto moderno e anche quest'anno sarò presente qui in Accademia. Il corso è aperto a tutti, sia per chi vuole cominciare da zero e non ha mai cantato, per chi ha cantato sotto la doccia, siamo pronti comunque ad aiutarvi, e anche per chi si vuole perfezionare, per chi appunto sta andando verso un percorso di tipo professionale. Potrai scegliere il corso più adatto a te, partendo dai corsi base fino a quelli certificati a livello internazionale. A lezione lavoreremo insieme partendo dalle basi, quindi dalla tecnica vocale, dal riscaldamento, interpretazione e stage performing, e impareremo insieme come si sta sul palcoscenico. Quindi cosa aspetti? Ti aspettiamo in Accademia per fissare la tua lezione di prova gratuita oppure per iscriverti. Un bacione e a presto, ciao!